passiamo a parlare di CSS ovvero la seconda parte della coppia HTML e CSS HTML è fatto per i contenuti CSS è fatto per descrivere come visualizzare questi contenuti CSS sta per Cascading Style Sheet ed è un linguaggio pensato per andare a descrivere come presentare, come visualizzare i documenti quindi permette la separazione di contenuti e di presentazione e si occupa della parte di presentazione in HTML, soprattutto nelle versioni precedenti alla HTML5 c'erano molti aspetti di visualizzazione, di presentazione la tendenza con HTML5 è stata quella di andare a separare nettamente il contenuto dalla visualizzazione quindi CSS che in realtà già esistevano precedentemente hanno assunto ancora più importanza in HTML quando vedrete dei file generati noterete che ci sono diversi tag che vengono utilizzati e che contengono al loro interno una semantica già orientata alla parte di presentazione ad esempio i tag B e I che stanno per bold e italic che vengono utilizzati per andare a rappresentare dei frammenti di testo come grassetto o italico questi tag che esistono dalla versione 1 di HTML in HTML5 non sono proibiti però si raccomanda di utilizzare in alternativa altri tag che sono Strong e M dove M sta per emphasis cercando di utilizzare dei nomi di tag più neutri che rappresentino più il contenuto, il significato che come devono essere rappresentati poi normalmente i tag di tipo Strong vengono automaticamente visualizzati in grassetto e quelli tipo emphasis in italico però questa è una convenzione che può tranquillamente essere cambiata tramite un CSS quali sono i vantaggi di separare nettamente queste due parti? innanzitutto che evitiamo la duplicazione ad esempio se vogliamo andare a rappresentare sempre allo stesso modo alcuni elementi del testo è sufficiente che utilizziamo un particolare tag o una particolare classe di visualizzazione e automaticamente tutto il codice che ha quel tag verrà visualizzato esattamente allo stesso modo e non dobbiamo scriverlo ogni volta ma lo scriviamo una volta soltanto dentro un file CSS questo porta a una facilità di manutenzione per cui se io voglio cambiare leggermente lo stile con cui viene visualizzato un certo tipo di elemento lo posso fare in un punto solo nel CSS e questo automaticamente verrà applicato non a una pagina ma a tutto un sito a tutti i siti che utilizzano quel file CSS quindi posso riutilizzare lo stesso contenuto ad esempio cambiando il file CSS visualizzando i contenuti in maniera diversa nascondendone alcuni enfatizzandone altri l'idea è che a partire dello stesso contenuto posso applicare diversi tipi di visualizzazione come funziona CSS? allora CSS è sostanzialmente costituito da un insieme di regole ogni regola contiene due parti fondamentali una parte che è il selettore che dice a quali tipi di elementi HTML si applica quella regola la seconda parte è formata da una coppia proprietà e valore dove la proprietà indica un aspetto visuale il colore la posizione la distanza dagli altri elementi e il valore indica come voglio visualizzare quel particolare aspetto quindi la proprietà potrebbe essere il colore e il valore potrebbe essere rosso in realtà normalmente associo a un selettore tante coppie proprietà e valore in questo modo definisco per quel particolare elemento HTML un aspetto visuale andando a definire il colore la forma la posizione lo spessore delle linee lo sfondo eccetera come definisco quindi le mie regole la sintassi è quella che vediamo qua c'è un selettore e poi tra parentesi graffe una serie di coppie proprietà valore dove proprietà e valore sono separate da due punti attenzione che questo normalmente è causa di errore le prime volte perché in HTML quando vado a definire un parametro di un tag uso uguale quindi ad esempio scrivo a href uguale il valore in CSS scrivo colore due punti red e separo una proprietà dall'altra con un punto e virgola come faccio a definire i selettori ho tre tipi fondamentali di selettori poi li posso combinare e complicare ulteriormente ho i selettori che corrispondono a un tipo di tag e quindi scrivo semplicemente il nome del tag P ad esempio posso utilizzare dei selettori di classe come definisco un selettore di classe mettendo P il nome della classe a quali elementi si applica quel selettore a tutti i tag che hanno un attributo classe che ha quel nome e infine ho dei selettori di tipo identificatore in cui metto Piesis e il nome dell'identificatore a quali elementi si applica a tutti gli elementi che hanno un attributo id che ha quel nome vediamo un esempio molto semplice andiamo a mettere tre tag di tipo P primo capoverso secondo capoverso terzo e quarto vedete che qui nell'html io mi sono permesso di non mettere html head body ok in html5 io posso anche fare questi pasticci di solito è meglio comunque andare a strutturare il vostro file nella maniera corretta quindi mettere un html volendo potete anche saltare il body se non vi interessa andare a definire alcuni parametri scusate led non il body il body invece è necessario quindi in fondo posso mettere slash body html tra i selettori che cosa posso fare posso andare a mettere un selettore di tipo P e poi tra parentesi graffe vado a indicare qualche caratteristica abbiamo menzionato prima come esempio colore due punti red automaticamente applicando quel css il colore in tutti i capoversi diventa rosso è ovvio che se ho altri elementi che so un h1 che è il nostro titolo quello non avrà quel attributo applicato abbiamo detto che poi per effettuare dei link quindi per identificare univocamente dei frammenti io posso definire dentro i tag un identificatore che è fatto tramite l'attributo id uguale capoverso 2 ad esempio il tag scusate quello stile che ho appena definito si applica a tutti anche se hanno un particolare identificatore tutti i P hanno il colore rosso vi faccio notare che io ho messo color due punti red e basta i punti virgola a rigore serve per andare a separare una proprietà una coppia proprietà valore dall'altra il problema è che se io qua vado a mettere che so text size due punti 20 il risultato è che non vedo più nulla perché perché mi sono dimenticato di mettere qua il punto e virgola per cui la regola che normalmente si segue e che praticamente è applicata universalmente è quella di mettere un punto e virgola sempre e comunque non soltanto come separatore ma come terminatore di ogni coppia proprietà valore in modo che posso aggiungere tranquillamente altre coppie proprietà valore senza preoccuparvi quindi se lo vuoi lo fate in automatico di mettere il punto e virgola tranquillamente potete andare a modificare i vostri CSS senza questo piccolo inconveniente un'altra cosa che vi dicevo è che potremmo andare a dire che ci interessa definire uno stile diverso ad esempio per i capoversi che hanno come identificatore capitolo 2 per cui se io vado a mettere capitolo 2 e metto come color due punti blu automaticamente quel capoverso che ha l'identificatore cap 2 diventa blu qual è l'ordine con cui vengono applicati gli stili vengono applicati con lo stile che si chiama cascata dove applico per primi quelli più specifici tra un tag che quindi identifica tanti elementi e un identificatore che ragionevolmente dovrebbe identificarmi un solo elemento quello che è più specifico ovviamente è quello che riguarda un identificatore per cui innanzitutto applico quello per gli altri elementi a cui non ho applicato quello stile vale l'altro quello che riguarda il p tutti i p avranno un colore rosso a meno che non ci sia una regola più specifica oltre al tag e all'identificatore vi ho menzionato prima la possibilità di definire una classe con il punto quindi definire una classe vuol dire che io vado a mettere un attributo un attributo che si chiama classe uguale classe 1 chiamiamola così e posso andare a mettere l'attributo classe in più elementi per cui nel mio CSS posso andare a mettere punto classe 1 che è il nome della classe che ho appena definito aperta color due punti green qual è il risultato? il risultato è che il primo capoverso che ha la classe 1 diventa di colore verde il secondo capoverso invece resta di colore blu perché l'identificatore è più specifico della classe in generale la regola vuole che gli identificatori siano unici altrimenti non identificano più mentre invece posso assegnare la stessa classe a più elementi diversi quindi in termini di specificità andiamo dal più specifico che è l'identificatore quindi diesis e il nome al tipo di elemento a metà c'è la classe quindi per il primo capoverso in realtà posso applicare due regole la prima quella del tag P e la terza quella della classe quella della classe più specifica quindi vale quella per il secondo capoverso posso applicare addirittura tre di regole quella del tag P quella dell'identificatore cap2 e quella della classe 1 la regola più specifica è quella che fa riferimento all'identificatore e quindi applico quella perciò viene messo blu il terzo e il quarto capoverso invece sono dei elementi di tipo P e a questi si applica esclusivamente la prima regola e quindi vengono mostrati in colore rosso ok quindi i primi tre selettori sono il selettore di tipo di elemento il selettore di classe il selettore di identificatore andando dal più generale al più specifico io posso comporre dei selettori andando a definire delle regole più complesse per cui posso definire delle alternative se io metto una serie di selettori separati da virgola vuol dire che lo stile che definisco dopo tra graffe si applica a tutti quei selettori per cui se ad esempio metto un selettore P virgola LI vuol dire che lo stile che andrò a definire dopo cioè tutte le coppie proprietà valore si applicano sia agli elementi di tipo P che agli elementi di tipo LI io posso anche andare a combinare dei selettori mettendoli uno di seguito all'altro uno attaccato all'altro per cui se scrivo P.Warning le regole la regola si applica esclusivamente agli elementi di tipo P che abbiano come classe Warning se metto P diesis example la regola si applica esclusivamente agli elementi di tipo P che abbiano come identificatore example tornando al nostro esempio di prima io qui ho messo la classe 1 ma la classe 1 potrei anche metterla nel titolo ok nulla mi vieta di mettere classe uguale classe 1 a questo punto l'ultima regola che mi dice che tutti gli elementi che hanno classe classe 1 sono verdi si applica anche al titolo se io in realtà voglio che quella regola si applichi non al titolo ma semplicemente ai capoverso quindi agli elementi di tipo P che abbiano classe 1 allora devo andare a indicare che quella regola vale per P punto classe 1 a questo punto quella regola si applica al primo capoverso ma non al titolo tenete conto che le regole possono intrecciarsi per cui potrei andare a mettere un'altra regola che si chiama punto classe 1 e basta in cui posso andare a dire ad esempio font family sans serif a questo punto tutti gli elementi che hanno classe classe 1 avranno quel tipo di font questo si applica sia al titolo che al primo capoverso però il primo capoverso è anche di tipo P e quindi si applica anche la regola precedente che vuole che il colore sia verde quindi posso intrecciare diverse regole se ho diverse regole che vanno a operare sullo stesso sulla stessa proprietà vale la regola più specifica come faccio ad applicare gli stili ai miei file html ho tre modalità la modalità inline dentro un tag posso andare a definire un attributo style in cui definisco lo stile per cui ad esempio in questo modo io posso definire un elemento P che abbia uno stile come stile un certo colore un certo bordo e abbia un certo background quindi quell'elemento contiene quei dettagli di solito quando scrivo l'html volendo mantenere separato contenuto e rappresentazione questo tipo di soluzione non è auspicabile ok perché se ho distinto html css proprio per distinguere contenuto e rappresentazione qua sto mettendo il css direttamente dentro html quindi sostanzialmente sto andando nella direzione opposta tuttavia talvolta in alcuni casi molto particolari può essere comodo andare a modificare l'aspetto di un particolare elemento direttamente in questo modo invece di andare a scrivere un foglio di stile separato vedremo inoltre che gli attributi possono essere modificati al volo tramite un programma scritto in javascript a quel punto potrebbe essere utile un programma che vada selettivamente su un particolare elemento a modificare al volo alcuni attributi per cui se clicco su un elemento della pagina potrei eseguire del codice javascript che modifica lo stile di quell'elemento ad esempio cambiando nel colore quindi normalmente quando scrivo html questo modo di andare a definire lo stile non lo utilizzo ma posso sfruttarlo tramite delle pagine tramite del codice javascript seconda modalità è quella di andare a definire dentro la pagina html un frammento di codice css lo metto dentro un tag che si chiama style di solito questo tag lo metto dentro la parte head dell'html cioè quella che non viene visualizzata e questo mi definisce le regole per visualizzare la pagina a questo punto non ho una separazione tra contenuto e presentazione in termini due file distinti ma all'interno dello stesso file ho la presentazione che è descritta nella parte style e ho il contenuto che è descritto normalmente sotto dentro il body con tutti gli elementi questo tipo di modo di applicare lo stile a una pagina html è utile perché permette di avere in un unico file tutto è una pagina che è autocontenuta dentro un unico file ho la presentazione il contenuto ovviamente separati ma posso utilizzare quell'unico file per ad esempio trasferirlo e trasferire contemporaneamente presentazione e contenuto altrimenti è necessario portare dietro sia il foglio di stile quindi un file css sia il file html terzo modo è quello di andare a definire di solito nella parte head un elemento di tipo link che collega il file html a un particolare foglio di stile questo è il meccanismo che usa anche code pen in maniera nascosta per andare a collegare questo contenuto html a questo foglio di stile questo meccanismo questo meccanismo è quello più utile se io voglio andare a definire ad esempio in maniera unitaria lo stile lo stile di tutte le pagine di un sito cosa faccio definisco un unico file css e poi tutte le pagine di quel sito puntano allo stesso file css quindi tutte le pagine del sito avranno lo stesso modo di rappresentare h1 ip le tabelle eccetera eccetera se voglio cambiare lo stile del mio sito che cosa faccio cambio esclusivamente il mio css un altro modo di fare riferimento a un foglio di stile esterno è dentro un tag di tipo stile usare un chiocciola import e mettere un url questa scrittura in alto con il tag di tipo link o questa scrittura in basso con led import sono sostanzialmente equivalenti caricano lo stile da un foglio esterno andiamo un po' più nel dettaglio sui selettori abbiamo visto che ci sono alcuni tipi fondamentali ma in realtà io li posso combinare in maniera ancora più complicata se io metto due selettori uno dopo l'altro ma separati da spazio sto dicendo che voglio andare a selezionare gli elementi di tipo E che siano discendenti ovvero contenuti in maniera diretta o indiretta dentro gli elementi di tipo A se utilizzo A maggiore di E vuol dire che voglio andare a identificare tutti gli elementi di tipo E che siano figli di elementi di tipo A figli vuol dire che sono contenuti direttamente dentro elementi di tipo A esempio pratico allora nel nostro file di esempio abbiamo messo degli elementi di tipo P direttamente dentro BODY in realtà alcuni potrebbero essere messi dentro una sezione mettiamoci i primi tre così almeno abbiamo diversi casi allora la prima regola che avevamo scritto qua si applica a tutti gli elementi di tipo P se io metto davanti a questo P un section sto sto dicendo sto dicendo che voglio fare riferimento a tutti gli elementi di tipo P che siano contenuti in maniera diretta o indiretta dentro una sezione il quarto capoverso come vedete qua in realtà non è contenuto dentro una sezione quindi questa regola che mette il colore del testo a rosso si applica a tutti gli altri P tranne al quarto capoverso che non è contenuto dentro un elemento di tipo sezione posso andare a mettere un'altra regola ad esempio body P e qui andare a mettere colore dello sfondo giallo body spazio P vuol dire tutti gli elementi di tipo P che sono contenuti direttamente o indirettamente dentro il body praticamente tutti se invece di mettere body spazio P metto body maggiore di P quella regola si applica a tutti gli elementi di tipo P che siano contenuti direttamente dentro elementi di tipo body come vediamo il quarto capoverso è contenuto direttamente dentro body è uno dei figli di body mentre mentre invece gli altri non sono contenuti direttamente dentro body sono contenuti dentro una section la quale è contenuta dentro body quindi quindi il contenimento può essere sfruttato in questo modo per andare a variare gli stili per cui ad esempio se io volessi andare a definire il testo che sta dentro una tabella in maniera diversa dal resto del testo mi basta semplicemente andare a utilizzare il tag table P per cui tutti i paragrafi tutti i capoversi che stanno dentro una tabella verranno formatati in un certo modo gli altri verranno formatati in maniera diversa attenzione allo spazio perché questa regola che avevamo scritto come P e poi punto classe 1 scritta così tutto attaccato si riferisce agli elementi di tipo P che hanno come classe classe 1 se io qua metto uno spazio quella regola a questo punto si applica a tutti gli elementi di classe 1 che siano contenuti dentro P e quindi ve li distinguo mi metto uno dopo l'altro quindi la prima elementi con classe classe 1 dentro elementi di tipo P questo qui sotto invece fatemi cambiare il colore abbiamo un elementi di tipo P con classe classe 1 ok la differenza è questo spazio quindi i selettori sono abbastanza fragili basta minimo dettaglio perché si applichino a qualcosa invece di qualcos'altro abbiamo poi altri tipi di combinazioni quindi B più E significa gli elementi di tipo E che siano fratelli di elementi di tipo B next sibling vuol dire il fratello immediatamente successivo sibling vuol dire fratello in realtà in inglese c'è brother e sibling brother normalmente si usa per fratelli di stessi genitori sibling fratelli eventualmente di genitori diversi B tilde E vuol dire ogni elemento E che sia fratello magari non subito quello dopo di un altro elemento che sia di tipo P per cui ad esempio io posso andare a dire utilizzando il costrutto più che ogni elemento di tipo P che sia preceduto da un altro P può avere uno spazio ridotto Gli elementi tipo P che sono preceduti da qualcosa che non è un elemento P hanno uno spazio più esteso posso posso anche andare a dettagliare a quali figli particolari si applica una particolare regola per cui E first child si applica a tutti gli elementi tipo E che siano primi figli del loro contenitore ant child vuol dire che è una regola che si applica ai figli posizione ennesima dentro il contenitore only child si applica a elementi che siano gli unici figli contenuti dentro il loro tag contenitore queste regole si possono utilizzare ad esempio per andare dentro una tabella a mettere ad esempio la riga che è first child normalmente è la riga che contiene i titoli e quindi possiamo visualizzarle in maniera diversa rispetto agli altri l'ent child ad esempio utilizzando un'espressione tipo 2n più 1 vuol dire tutti i figli dispari con posizione dispari questo si applica alle righe di posizione dispari 2n si applica alle righe di posizione pari e quindi posso ad esempio andare a mettere degli sfondi diversi per le righe pari delle tabelle lo stesso posso fare con i capoversi avere i capoversi alternati con colori alternati con un iniziale o un tipo di testo alternato o quello che volete o il primo capoverso di una sezione che ha un fronte più grande degli altri lo posso fare con questo tipo di selettori quindi ho una grande libertà nell'andare a identificare un elemento piuttosto che un altro in base al loro tipo in base alla loro posizione e applicare degli stili diversi posso anche andare a selezionare gli attributi scusate gli elementi in base ai loro attributi per cui e quadra atr mi dice che vado a selezionare tutti gli elementi che abbiano quell'attributo oppure tutti gli elementi che hanno quell'attributo con un particolare valore oppure con quell'attributo che inizia il cui valore inizia con una sequenza finisce con una sequenza o che contiene una sequenza di caratteri per cui per ad esempio mettere l'identificatore potrei anche utilizzare l'attributo quindi dico che vado a prendere tutti gli attributi con tutti gli elementi con l'attributo id uguale a un certo valore lo stesso per le classi ad esempio infine ho quelle che si chiamano pseudoclassi due punti link si riferisce a tutti i link quindi attributi tipo A però posso anche avere dei link che sono già stati visitati se avete presente normalmente nelle pagine html standard i link che avete già visitato spesso vengono rappresentati con un colore leggermente più scuro meno saturo e quindi posso fare visited posso mettere anche active quindi posso andare a definire lo stile di un link che è attivo mentre lo sto cliccando per cui giusto per darvi un esempio posso mettere qua lo stile link e mettere come colore due punti purple qui se nel mio quarto capoverso ho un link a link usate href uguale punto vedete che questo link è in colore viola se metto active posso ad esempio andare a dire che il background color due punti red per cui quando vado sopra e clicco in realtà qui me l'ha messo tutto ma doveva mettermi soltanto quell'elemento background rosso se rilascio il colore scompare in realtà qui dovrei mettere a active e mi visualizza soltanto quello ok se rilascio scompare il background a attaccato active vuol dire i link di tipo A che siano attivi che è diverso da mettere a spazio active i link di tipo A che contengono un elemento che è stato attivato se mettessi p active quello stile si applicherebbe a tutto il capoverso che contiene il link che è stato attivato no dovrebbe ma non lo fa va bene poi c'è poi c'è over che è la caratteristica degli elementi quando il mouse li passa sopra per cui ad esempio se io vado a mettere i miei P di classe 1 scusate P due punti over posso mettere e qui quando passo su un elemento P cambio il background sui P non ha molto senso a volte può avere senso sulle liste o sulle tabelle per andare a evidenziare l'elemento attualmente su cui mi trovo quali sono gli attributi che posso andare a modificare si ah ok perché ha attivato il P va bene grazie quindi questo qua si ho fatto questo in funzione ebbene bene a questo punto quali sono gli attributi su cui possiamo andare a agire abbiamo visto alcuni esempi più che altro i colori vediamo una breve panoramica allora innanzitutto abbiamo un parametro un attributo che si chiama display e mi dice come posso andare a visualizzare il mio elemento o display block oppure in line display block vuol dire che quell'elemento non potrà comparire sulla stessa linea rispetto agli altri quindi sostanzialmente forza una specie di a capo normalmente gli elementi di tipo P sono visualizzati come block altri elementi tipo A ad esempio sono visualizzati come in line quindi in generale buona parte degli elementi hanno un loro tipo di visualizzazione esiste anche il valore non che sostanzialmente non mi fa visualizzare quell'elemento abbiamo poi il parametro la proprietà di visibilità che può essere visibile o nascosto visible o hidden la differenza tra hidden e none e display none visibility hidden e display none è che se io metto visibility hidden l'elemento viene comunque considerato nell'andare a disporre il contenuto della pagina semplicemente resta una specie di rettangolo vuoto in cui dovrei andare a mettere l'elemento che però non viene visualizzato se io metto display uguale a none significa che quell'elemento non viene proprio considerato nella visualizzazione quindi non occupa alcuno spazio posso avere i bordi degli elementi normalmente identifico tre parametri del bordo lo spessore lo stile e il colore lo spessore lo metto in punti o qualche altra unità di misura il colore vediamo come lo posso esprimere ad esempio con il suo nome per quanto riguarda lo stile normalmente ho solid che vuol dire che è una linea continua dotted dashed double più un'altra serie di altre combinazioni io posso andare a specificare le tre caratteristiche di un bordo come un'unica serie di valori ad esempio border 2px solid black vuol dire che faccio un border spesso 2px solido quindi linea continua nero oppure posso andare a specificare i parametri separatamente quindi border trattino width border style e border color come faccio a specificare i colori li posso specificare utilizzando quella funzione che si chiama rgb che ha tre parametri tra 0 e 255 oppure utilizzando la notazione diesis con sei numeretti dove ogni coppia di numeri rappresenta il valore inesadecimale della componente rossa verde e blu per cui ff 0000 vuol dire che la componente rossa ha come valore ff che inesadecimale vuol dire 255 le componenti verde e blu valgono invece 0 entrambe per cui ff 0000 è rosso 00ff 00 è verde brillante 0000 e blu e blu brillante questi li poterò anche scrivere come rgb 255 00 per il rosso eccetera un altro modo di specificare i colori è tramite i tre valori di tinta, saturazione e luminosità dove la tinta viene rappresentata come un angolo tra 0 e 360 dove angolo 0 è sostanzialmente il rosso, angolo 120 è sostanzialmente il verde, 240 è il blu i valori intermedi rappresentano per l'appunto i colori intermedi, quindi i colori vengono rappresentati come fossero una ruota in cui parto dal rosso, vado verso il verde, scendo verso il blu e poi torno a rosso la saturazione mi indica quanto è intenso il colore e la luminosità per l'appunto mi dice quanto è luminoso i colori che abbiamo visto prima si possono riprodurre in questo modo, quindi ad esempio per il blu metto una tinta riu a 240 che è un blu puro la saturazione al 100%, quindi è un blu molto carico e la luminosità al 50% mentre se al 100% sarebbe molto più chiaro meno del 50% più scuro oppure, come negli esempi che abbiamo visto prima, posso andare a utilizzare i nomi dei colori i tre colori brillanti e saturi che abbiamo visto prima corrispondono a red, lime e blu il verde, il green in CSS è di solito un verde più scuro del verde che vediamo qua che in generale è una buona idea perché scrivere dei caratteri con questo verde molto chiaro difficilmente permette di distinguere da uno sfondo bianco quindi hanno scelto di associare il verde, la parola green, a un colore un po' più scuro che quindi possa essere utilizzato per rappresentare dei caratteri che siano distinguibili da uno sfondo abbiamo poi una serie di nomi abbastanza standard quelli erano presenti già nella versione 1 del CSS in realtà ci sono tantissimi altri colori nomi di colori che sono definiti e che possono essere utilizzati nel CSS oltre al colore ho un altro aspetto che è la trasparenza per cui posso dare un altro parametro che è il livello di trasparenza per cui ho delle funzioni che si chiamano RGBA e HSLA dove A sta per alfa che è la lettera che di solito si utilizza per andare a indicare la trasparenza qui posso utilizzare un valore che va da 0 a 1 dove 0 è completamente trasparente e 1 opaco se non dico nulla normalmente i colori sono completamente opachi quindi è come se mettessi un 1 tra i nomi esiste il nome transparente che vuol dire completamente trasparente prima abbiamo parlato ad esempio di dimensioni, di spessore eccetera posso andare a specificare tutte le dimensioni facendo riferimento a delle unità le unità possono essere pollici, centimetri, millimetri possono essere pixel, possono essere punti i pixel in realtà non sono i pixel dello schermo sono delle unità che corrispondono a un 96esimo di pollice è una unità sostanzialmente grafica utilizzata oppure posso usare punti che sono un 72esimo i punti derivano da notazioni tipografiche su carta quindi per convenzione il punto tipografico è un 72esimo di pollice un altro modo di specificare delle dimensioni è in percentuale normalmente se vado a dare la dimensione di un oggetto dico che quell'oggetto è il 50% o il 100% del contenitore per cui se vado ad indicare la dimensione di una tabella e dico che è 100% intendo dire che la larghezza di quella tabella corrisponde a tutta la larghezza della pagina altre unità che però fanno riferimento alle dimensioni dei caratteri sono queste m è il valore normale del font che viene utilizzato e x fa riferimento invece all'altezza di una x minuscola un ch è sostanzialmente quanto fa avanzare uno zero che rappresenta un po' un carattere medio quindi la larghezza dello zero è la larghezza di buona parte dei caratteri invece rem si riferisce a un em però calcolato rispetto alla dimensione del carattere valida all'elemento radice quindi a livello body per andare a specificare le dimensioni è bene capire come funzionano gli elementi in java e quali sono i contenitori e le posizioni relative normalmente quando io parlo di un elemento specificamente di un elemento che viene visualizzato come un block ma vale anche per quelli in line di solito ho un contenuto ho una area di padding che sostanzialmente è un contorno immediatamente esterno al contenuto ho poi un bordo e poi ho un margine che separa questo elemento dagli elementi che lo circondano ovviamente un elemento ha quattro lati top, right, bottom e left quindi io posso andare a specificare ciascuno di questi elementi il padding, il bordo e il margine separatamente per ognuno delle quattro posizioni per cui posso andare a specificare ad esempio il bordo inferiore completamente diverso da quello che è il bordo destro in generale io posso andare a specificare per il bordo, il margine o il padding un valore unico quel valore di solito si riferisce a tutti e quattro i lati oppure posso andare a mettere un valore specifico per uno dei quattro lati ad esempio posso scrivere margin top 26 punti vuol dire che lo spazio sopra il mio elemento sarà di 26 punti io posso andare a mettere ad esempio lo spessore di un bordo e andare a elencare quattro valori quei quattro valori fanno riferimento nell'ordine a top, right, bottom e left oppure posso specificare solo due valori e quei due valori fanno riferimento al sopra e sotto oppure sinistra e destra quindi il margine piuttosto che il padding superiore e inferiore sono definiti dal primo elemento e il margine o padding o bordo destro e sinistro sono definiti dal secondo elemento per il bordo io posso andare a specificare uno dei sotto attributi quindi lo stile, lo spessore e il colore per ciascuno dei lati per cui border left width mi dà lo spessore del bordo sinistro per cui ad esempio questo stile mi dà lo spessore del bordo 2, 6, 8, 16 punti 2 è alto 6 è a destra 8 è in basso e 16 a sinistra i colori sono orange, green, purple e grey sempre a partire dall'alto in senso orario gli stili sono dotted e solid dotted si applica a quello in alto e in basso solid si applica a quello sinistra e destra il padding è 0 punti sopra 10 a destra 1m sotto e 2m a sinistra quindi posso andare a dettagliare come è fatto il mio elemento con un livello di dettaglio estremo per ogni elemento posso andare a specificare anche le dimensioni larghezza e altezza ciascuna di queste dimensioni può essere specificata come auto che vuol dire lascio al browser decidere qual è la dimensione necessaria normalmente è basata sul contenuto una qualunque dimensione espressa in una qualunque dell'unità che abbiamo visto oppure come percentuale in questo caso fa riferimento alla percentuale del contenitore posso anche specificare un altro parametro che si chiama max width che è la larghezza massima che può raggiungere un elemento se io specifico la larghezza di un elemento come 100% più allargo la mia finestra più quell'elemento si allargherà in alcuni casi io voglio poter limitare quell'ingrandimento a un valore massimo ad esempio perché una tabella non ha senso che si ingrandisca oltre a una certa dimensione per quanto riguarda il testo gli attributi che posso definire sono questi allora il colore che abbiamo visto negli esempi precedenti dove il colore può essere specificato in uno dei vari modi che abbiamo visto prima posso specificare l'allineamento del testo quindi destra, sinistra, centrato, giustificato posso andare a definire le decorazioni del testo sostanzialmente sottolineato con la linea sopra con la linea di traverso posso andare a definire una trasformazione del testo quindi andare a definire se lo voglio uppercase, lowercase o capitalize posso andare a mettere l'indentazione del testo quindi quanto viene spostato rispetto all'immagine e posso andare a definire l'altezza delle righe che può essere normale quindi sostanzialmente il fronte avrà una certa altezza e viene utilizzata quella può essere un numero che normalmente è un multiplo della altezza normale quindi posso dire una volta e mezza l'altezza normale della linea posso specificare una dimensione quindi 10 punti oppure posso mettere una percentuale e questo di nuovo è una percentuale rispetto all'altezza normale questo per il testo in generale poi posso andare a specificare le caratteristiche dei font posso specificare la famiglia e quindi i font serif o sans serif lo stile del font quindi normale, italico oppure obliquo c'è una leggera differenza tra italico e obliquo l'italico è un po' più raffinato l'obliquo è semplicemente spostato la variante quindi può essere normale oppure in maiuscoletto il peso del font quindi quanto sono spesse le linee che compongono un font può essere normale può essere grassetto può essere bolder che in italiano non saprei come tradurre oppure lighter, più leggero quindi un font più sottile del normale oppure posso mettere un numero in cui specifico il peso dove per convenzione il peso di 400 è normale quindi posso mettere un peso 100 il che vuol dire che il font verrà sottigliato attenzione che questo numero funziona soltanto per alcuni font non tutti i font hanno i dettagli che permettono di andare a sottigliare le linee e non tutti i valori possono essere realizzati i font più moderni sono descritti in maniera più dettagliata e quindi posso andare a definire degli spessori e dei pesi su fonte un po' più vecchie, un po' più standard non posso specificare qualunque peso e le dimensioni da small, medium, extra large oppure in percentuale rispetto al dimensione standard posso andare a dettagliare le liste per cui posso per le liste andare a specificare lo stile della lista per quelle non numerate posso mettere un disco un cerchio oppure un quadrato oppure nulla per quelle numerate posso mettere la solida numerazione decimale alfabetico oppure la numerazione non romana io qui ve ne ho messi alcuni perché ovviamente c'è come c'è lower alfa c'è anche upper alfa come c'è lower roman c'è anche upper roman c'è greek eccetera quindi ho diversi stili per le liste numerate eventualmente posso andare a specificare un'immagine e utilizzare come bullet nelle liste ovviamente quelle non numerate e questo lo posso fare andando a mettere usare quella funzione url che mi specifica un file che contiene un'immagine che potrò utilizzare come elemento prima di ogni riga della lista per le tabelle gli elementi hanno i soliti attributi quindi normalmente i bordi in più per le tabelle di solito ho quell'attributo che si chiama border collapse che mi dice se i bordi degli elementi adiacenti devono essere collassati normalmente se io ho due celle ogni cella avrà un bordo quindi quando vedo due celle una di fianco all'altra vedrò il bordo di entrambe le celle in generale io quando voglio avere una griglia il bordo che separa due celle lo vorrei vedere singolo e non doppio se metto questo valore collapse automaticamente i bordi di due celle adiacenti verranno collassati in uno solo quindi verranno sostanzialmente sovrapposti poi ho height e width che mi danno l'altezza e la larghezza della mia tabella infine ho gli elementi che si chiamano floating che non sono posizionati in una certa posizione predefinita ma possono galleggiare a sinistra o a destra e il testo normalmente viene disposto attorno a questi elementi che galleggiano il testo può essere messo a sinistra a destra dell'elemento ma posso con l'attributo clear impedire che il testo venga messo a sinistra a destra o da entrambe le parti se io metto clear both vuol dire che questo elemento galleggiante non avrà testo né a destra né a sinistra normalmente gli elementi floating vengono per l'appunto considerati galleggianti e quindi non vengono utilizzati per andare a conteggiare le dimensioni di un contenitore sostanzialmente stanno sopra il contenitore e se il contenitore è più piccolo immaginatevi avere un'immagine grande dentro un elemento di tipo P se l'immagine è più grande dell'elemento di tipo P questo sta oltre la dimensione posso utilizzare la proprietà overflow per permettere al contenitore di considerare anche le dimensioni dell'elemento floating quando calcola le sue proprie dimensioni a questo punto non dovete sapere tutta memoria ma potete fare riferimento a vari tutorial online qui vengono citati un paio il secondo forse è più semplice a seguire e vi dà tutta una serie di informazioni sui vari selettori e sulle proprietà che possono essere utilizzate dentro i CSS l'obiettivo della prossima esercitazione di laboratorio sarà invece di utilizzare un CSS già definito scriverne uno voi in base agli obiettivi che volete raggiungere quindi se volete avere gli elementi di un certo tipo dovrete andare a definire le regole CSS in maniera opportuna direi che con questo per oggi abbiamo finito e noi ci vediamo lunedì pomeriggio in laboratorio che ci vediamo